Musica Cari telespettatori ben ritrovati, ben ritornati in nostra compagnia e ci fa molto piacere poter riavere qui con noi, che non è cosa semplice perché è sempre impegnatissimo, ma una volta all'anno riusciamo a far sì che sia presente nel nostro studio e quindi è una cosa anche un grande onore, il maestro Yoga Maddio Bianchi, grazie di essere qui con noi maestro. Grazie a te Elena, è un grandissimo piacere anche per me ritrovarti. Allora l'occasione come sempre è il fatto che si trova qui in Veneto, nelle zone delle terme perché ha scelto come luogo ideale per poter esplicare tanti principi di filosofia zen, diciamo, di yoga, della medicina ayurvedica abbinati alle terme e possono essere un connubio, l'abbiamo detto anche un anno fa, ma adesso lo riprenderemo, molto interessante da sfruttare. Ricorre poi adesso nuovamente una settimana, detta la settimana zen alle terme, quindi dal 2 circa giugno fino a, per alcuni giorni, poi si ripeterà anche a luglio, dal 11 al 21 agosto, dal 10 al 17 luglio, dall'11 al 21 agosto, tra l'altro presso gli hotel, il Metropole del GPO Test di Abano Termi, quindi una bellissima anche occasione e questo hotel ha adottato la sua filosofia, lei si trova bene, ha detto benissimo, creiamo questa partnership e diamo un'opportunità alle persone per poter star meglio. Infatti l'occasione secondo me è questa, perché le persone purtroppo dopo il lockdown, dopo tutto quello che è successo e che sta succedendo, perché siamo bombardati da notizie terrificanti, cioè angoscianti, aumento dei prezzi alle stelle, guerra in Ucraina, minaccia della bomba atomica, Covid che sta rientrando, io non so che cosa può ancora succedere, perché veramente è da ansia, quindi le persone hanno bisogno di ritrovare se stesse, ritrovare una quotidianità, una pseudo nuova normalità, che forse tutto quello che ci circonda non ci consente assolutamente di trovare, di recuperare. E allora ci sono queste filosofie olistiche, che vengono dall'Oriente, che tradizionalmente hanno avuto un ruolo importantissimo per aiutarci ad evitare una farmacologia molto pesante, che però a cui tanti sono costretti a ricorrere, e a ritrovare quindi i benefici della natura. Detto questo, una bella parentesi zen nella nostra vita, ci sta! Vediamo di riprendere il discorso e faccia conto di non essere mai venuto, perché poi tanti ci dicono voi partite con dati di fatto scontati, no. Cos'è la filosofia zen in generale? Preferisco parlare un po' di più dello yoga, comunque la filosofia zen proviene dal pensiero buddista, cioè il buddismo nasce con Buddha nasce in India e poi inizialmente è ben accolto, ben accetto, si considera Buddha veramente una persona illuminata, poi una condizione un po' integralista da parte di qualcuno, dopo la sua morte ha fatto sì che i monaci buddisti cercassero altri luoghi dove stare bene, quindi sono usciti dall'India, sono andati al sud, sono andati a diverse correnti, una di queste ha attraversato la Cina ed è finita addirittura in Giappone, c'è stato uno scambio fra queste due culture e nasce la filosofia zen che è stupenda e fantastica. Lo yoga è ancora prima, cioè Buddha è 500 anni avanti Cristo, lo yoga si calcola che possa avere le radici a 5.000 anni prima di Cristo, cioè 7.000 anni fa. Quindi una cultura estremamente evoluta per il tempo, perché noi qui in Europa e in Occidente eravamo in tutt'altri mondi, effettivamente, quindi c'è stato un percorso anche di crescita molto importante. Voglio dire che l'Oriente e l'Occidente stanno anche presenti in noi, l'Occidente lo vediamo nel lato destro del corpo, nel lato sinistro del cervello e l'Oriente dall'altro lato. intendo dire che l'Occidente ha elaborato una condizione più razionale, pensiero razionale, azione e l'Oriente invece è il nostro aspetto femminile, cioè è l'intuizione, è la creatività di cui tanto abbiamo bisogno oggi, perché oggi ce ne verremo fuori da questa condizione se non spegniamo la nostra capacità creativa e la nostra capacità di adattamento a un futuro che si presenta piuttosto complicato. Quindi la nostra parte creativa abbiamo bisogno di quest'area del cervello che è l'emisfero destro, perché sono incrociati dove ha sede la creatività, l'intuizione, la percezione, lì in particolare l'Oriente si è specializzato. La capacità e la specialità dell'Oriente è di occuparsi della mente, delle emozioni, di tutti questi aspetti che l'Occidente ha dimenticato in un certo senso. Portarli qui ormai da tantissimi anni che parte dell'Oriente è arrivato e anche affascinato il mondo occidentale, cambiando alcuni aspetti della nostra abitudine di vita. Siamo sempre affascinati da quello che ci manca, un uomo cerca una donna ed è affascinato da una donna perché rappresenta una parte che lui non ha, è così, l'Occidente adesso è molto affascinato dall'Oriente perché è un aspetto che questi aspetti li ha trascurati completamente e adesso ne sente il bisogno. Ha capito che la vita non è soltanto lavoro. L'errore che noi abbiamo fatto fino a prima di questo malessere che ci ha coinvolto a tutti è stato quello di mettere il lavoro come primo obiettivo della nostra vita. è stato un errore grande. Adesso le persone hanno cambiato completamente filosofia, il lavoro che deve piacere, gratificare ma non può essere predominante, tutti i giovani non l'accettano più. Soprattutto in questo periodo la natura ci ha notificato una cosa importante, credo che valga la pena di riflettere per strutturare e mettere insieme una vita diversa, migliore. questo periodo ci ha insegnato che senza la salute non si va da nessuna parte, mentre invece nell'epoca precedente pre questo malessere di cui non dico neanche il nome perché non ne posso più veramente, non era così, cioè l'uomo aveva come principale obiettivo il lavoro e ha trascurato la salute ed è questa una delle ragioni che ci ha fatto cogliere l'umanità specialmente di tutto il mondo ma anche occidentale incapace di poter reagire di fronte a una condizione che richiedeva la presenza massima delle difese dell'organismo che lui nel frattempo ha perso col suo stile di vita lungo la strada. Ecco queste difese, questo sistema immunitario che si può in qualche modo riattivare e recuperare possono essere recuperate quindi anche un equilibrio interiore oltre che con la pratica dello yoga, con la medicina ayurvedica, poi portandolo anche vicino a noi perché i corsi di yoga ce ne sono, però il fatto che sia anche in una zona termale, nell'ambito di una struttura che ti coccola, quindi ti metti già in uno stato psicologico di isolamento dal resto in mezzo al verde, alla natura perché poi dove lei attua queste pratiche, dove c'è questo percorso è un parco verde di un hotel metropol, molto molto grande, molto bello. Sì, lo amo tantissimo questo luogo, sono otto anni che vengo presso questo hotel e direi che ci siamo adottati a vicenda, ci troviamo bene, io mi sento in una famiglia e ritengo questo hotel un bel esempio di come si possono trascorrere dei giorni felici, tranquilli, praticando anche lo yoga. Assolutamente, infatti quello voglio capire, cosa bisogna fare? Quindi che cosa prevede il percorso che lei ha studiato? Perché lei è un formatore tra l'altro, è un maestro, è un formatore, quindi ha studiato un percorso ad hoc, no? Prima stavamo distinguendo parte emozionale, parte fisica, come se fossero cose diverse, guardate che l'errore che facciamo è di pensare queste nostre parti separate, invece l'aspetto emozionale, la mente, il corpo è uno, quindi un disagio può partire da qualsiasi punto del nostro aspetto psicosomatico, qualsiasi punto può partire dalla mente, può partire dalle emozioni, se pensate soprattutto alle emozioni che avete praticato in questi due anni, hanno distrutto veramente più queste emozioni quasi quasi di quel disagio che poteva essere questa malattia, questo disturbo, perché le emozioni che abbiamo praticato in questi due anni sono stati per esempio la paura che è tipica per somatizzarsi sui reni, quindi guardate che vi parlo di organi fondamentali per l'esistenza, quindi la paura ci può e se continuiamo a praticarla ci danneggerà i reni, poi la rabbia perché alcune persone non sapevano adattarsi a un cambiamento, a queste condizioni, se la prendevano con tutto e con tutti e la rabbia come sapete va sul fegato, non da ultimo la tristezza, per dire che le emozioni ci possono davvero davvero mettere in difficoltà anche con la salute della tristezza si somatizza sui polmoni, se continueremo a praticare queste emozioni alla tristezza sui polmoni, e quindi il fatto che comunque anche molti accusino un po' legato alla patologia covid che è correlata alle vie respiratorie, però continuano ad accusare una sorta di ansia, di difficoltà a respirare e depressione, ansia, depressione e tristezza, questo è tipico, a giorno d'oro ci vedono queste persone che incontri per la strada, insomma non sono più gioiosi, non sono più solari, sembra che in effetti da due anni hanno preso poco sole e ne abbiamo così bisogno, perché il sole è... E quindi praticare lo yoga all'aria aperta, dopo qualche raggio di sole c'è... Praticare lo yoga all'aria aperta è il massimo, però lo yoga si pratica in qualunque condizione. Questo è fondamentale, allora adesso abbiamo la pubblicità che incombe, ricordiamo ancora la settimana, io la chiamo settimana yoga perché di fatto poi si tratta anche di un peristezza, rientra nella settimana Zen di Abano Terme, però comunque dedicata allo yoga dove trovare anche il maestro Amadio Bianchi dal 2 giugno, 2, 3, 4, insomma quella settimana lì rivolgetevi per informazioni, guardate sul sito internet e comunque all'hotel Metropole di Abano Terme, poi si riperterà anche ad agosto e anche a luglio, quindi periodi caldi, luglio, 10, 17, luglio, agosto, 11 e 21, agosto, una full immersion in yoga, in atmosfera zen, quindi ce n'è possibilità di scelta, ma la nostra scelta adesso è la pubblicità, poi ritorniamo insieme e entriamo ancora più nello specifico di che cosa fa bene, abbiamo visto gli organi che possono essere danneggiati, come sanarli, tra virgolette, utilizzando appunto delle tecniche anche di meditazione, di rilassamento e altro ancora.